Il mio avuto è tutto, non conoscevo nulla. Quando mi sono trovato a leggere il testo per le canzoni, questo attore che recitava, che lo accompagnavo, mi sono reso conto che era, come ci hanno detto stasera, totalmente diverso dalla storia studiata da scuola. Quindi questo libro, grazie per questo regalo, insomma, è tutto gonfiato, tutto ha dovuto un sorso. Mi potevo ringraziare, particolarmente, però anche lui per il libro che ci sta dando, questa testimonianza, perché il lavoro, noi un quarto periodo di spettacolo abbiamo lavorato anni per fare un piccolo archivio. Penso che il suo lavoro sia stato veramente massacrante. Sono trent'anni di lavoro. Allora, anche i giornalisti sono caldi. Allora, anche i giornalisti, anche i giornalisti sono caldi.